Una buona serata, buon mercoledì e benvenuti all'ultimo appuntamento con l'Abruzzo del pallone numero 37 che speriamo abbia tenuto compagnia in tutti questi mesi, vi abbiamo raccontato il campionato soprattutto di Serie D ma anche quando si è svolto la domenica quello di Serie C, arriva alla conclusione questo format, non alla conclusione per quest'anno non alla conclusione definitiva con la penultima giornata di campionato, poi l'ultima in realtà sarà distribuita tra sabato e lunedì perché poi ci saranno dei recuperi venerdì ma ovviamente nel corso dei nostri notiziari non mancheranno le immagini, i servizi, le interviste però come approfondimento sportivo l'Abruzzo del pallone termina questa sera fino alle 8.30, fino alle 20.30, un'ora di trasmissione dunque dobbiamo correre perché poi ovviamente per tutti c'è l'appuntamento con la nostra nazionale, vi ringraziamo tutti coloro che ci vorranno scrivere al 392-6237-060, Whatsapp o SMS, come detto vi abbiamo raccontato il campionato di Serie D e allora diamo il bentornato, non il benvenuto, il bentornato al Chieti che oggi vincendo a Capistrello torna nella quarta serie nazionale, pomeriggio molto molto bello, per i neroverdi di Alessandro Lucarelli, allora andiamo dal nostro Stefano Recanati, ciao Stefano, che è proprio all'esterno dello stadio Guido Angelini di Chieti, vedo male, no? No, no, vedi benissimo, abbiamo atteso qui il nostro collegamento, ecco, siamo qui allo stadio Angelini. Hai fatto bene, perché poco fa, vediamo anche le immagini che hai realizzato, è tornato il pullman del Chieti di ritorno da Capistrello, questa è la gioia e l'entusiasmo per un campionato vinto che è sempre una cosa molto bella e dunque i complimenti vanno alla società, alla formazione Nero Verde, per averci creduto anche dopo lo stop, la ripartenza con Sole Sette con Pagini, questo testa a testa con l'Aquila prima che il Chieti mettesse la marcia decisiva. Che pomeriggio è stato Stefano? Ovviamente qui vediamo il rientro della squadra, i tifosi del Chieti che aspettavano ovviamente il rientro dell'organico di Alessandro Lucarelli. Sì, un centinaio di tifosi, quelli che hanno atteso l'arrientro della squadra da Capistrello vittorioso per 3 a 0, qui all'antistadio e davanti al piazzale che poi ci separa a pochi metri dello stadio Angelini dove poi domenica alla fine della partita contro l'Arenato Curri Angolana ci sarà la vera festa, questo è stato solo un antipasso dei festeggiamenti, era giusto anche festeggiare oggi pomeriggio questo risultato, poi ci sarà la partita dell'Italia, ovviamente i festeggiamenti riprenderanno domenica dopo la partita. Che pomeriggio è stato un pomeriggio bello per i colori nero-verdi, pomeriggio però che era iniziato con le paure, le solite paure, quelle che si erano già viste nella partita contro l'Avezzano perché il Chieti poteva andare subito sotto, c'è stato il primo rigore sbagliato da parte del Capistrello con Franchi, poi il gol del Chieti e poi un altro, il secondo alcio di rigore di giornata sbagliato, questa volta è stato Pantozzi a prendersi la responsabilità di calciare il rigore ma l'ha tirato sopra la traversa e da qui un po' Lucarelli ha strigliato la squadra, soprattutto la fase difensiva che oggi era molto disattenta e poi da quelli incitamenti da parte del tecnico Alessandro Lucarelli è partito un altro Chieti che poi ha fatto il gol del 2-0, poi il secondo tempo è stato solo e pura Accademia perché è arrivato un attimo solo il gol del 3-0 e da lì si attendeva solo la festa per il ritorno del Chieti in Serie D dopo un anno di purgatorio che la stessa dirigenza ha commentato con gioia perché soprattutto il presidente Mergiotti ha detto non è facile riconquistare una promozione dopo una retrocessione, però sono stati bravi a crederci, a crederci soprattutto dopo lo stop del campionato che era iniziato dopo la pandemia con un mini torneo e il Chieti non so se forse era la squadra più forte sicuramente, è stata tra le grandi che partecipavano a questo mini torneo la squadra che ha sbagliato di meno, se siete d'accordo anche con me? Sì, probabilmente è così, chiedo anche, gli chiedo Venia per non averlo salutato subito Andrea Costantini, ciao Andrea Massaccheri, ancora un po' indaffarato e quindi ovviamente non ti abbiamo disturbato, diceva Stefano, è stata probabilmente la squadra che ha sbagliato meno, la più continua, ecco intanto questo è il triplice fischio e la festa, non possiamo mostrarvi gli highlights della partita per questione di diritti ma insomma quello che ci interessa è il ritorno in Serie D del Chieti ai nostri partenzi dell'anno prossimo, sei d'accordo con l'analisi che ha fatto Stefano? Soprattutto sono d'accordo con le parole di Mergiotti, non era facile ritornare subito e infatti il Chieti aveva avuto tanti problemi ad inizio campionato, se torniamo a quel campionato che poi è stato annullato, però pronti via a settembre il Chieti non è partito bene, era partita meglio la Delfino, tra le big era partita meglio l'Aquila, poi c'è stato questo lungo break e dopo questo break sicuramente il Chieti è la squadra che si è attrezzata meglio e soprattutto è stata quella che ha avuto maggiore compattezza sia in società sia nello staff tecnico e anche nei giocatori e questo un po' l'ho capito anche nel vedere quello che è successo all'Aquila con le dimissioni del tecnico Roberto Cappellacci, l'Aquila che sembrava poter partire più avanti nonostante quel break, invece probabilmente c'erano dei malumori che sono sfociati nelle dimissioni di Cappellacci e che poi hanno fatto sì che l'Aquila perdesse quel vantaggio competitivo che aveva acquisito nella prima parte della stagione per quanto quella classifica non valesse più. Il Chieti invece ha saputo resettare, ha allestito un organico importante, Lucarelli si conferma uno dei migliori allenatori per quanto riguarda il campionato di eccellenza, un vincente e sicuramente grazie alla sua sapienza questi ingredienti, cioè questo gruppo è stato ben mixato e la squadra sostanzialmente è andata con il vento in poppa con la ciliegina sulla torta, la vittoria dell'Aquila che è stata quella che poi ha consegnato la promozione virtuale ai Nero Verdi. Assolutamente sì, intanto queste sono le immagini subito dopo il triplice fischio dedicato a voi, era ovviamente lo slogan sulla maglia con la doppia D che ovviamente saluta il ritorno nella quarta categoria nazionale, complimenti davvero al Chieti per questo traguardo. Avete parlato di Alessandro Lucarelli, tra poco lo andiamo ad ascoltare, non solo lui, anche uno degli uomini goal di questo pomeriggio, ovvero Fabrizi, sempre al microfono di Stefano Recanati, intanto fatemi però salutare in collegamento il direttore sportivo del notalesco Paolo D'Ercole, buonasera direttore, non so se mi sente, forse però sei ancora in modalità muto, credo, sì, sì, ecco, tra poco, va beh, tra poco sarà con noi, bisogna attivare l'audio, tra poco lo ascolteremo, allora facciamo così, ci ascoltiamo le parole di Alessandro Lucarelli, abbiamo dovuto Stefano un po' tagliare perché ad un certo punto è arrivato un mega gavettone ovviamente per… Sì, preso in pieno, preso in pieno, perfetto, quindi a un certo punto l'intervista è tagliata, comunque, complimenti ad Alessandro Lucarelli, ci ascoltiamo all'intervista realizzata da te. Mi ha promesso, solo rimandata di qualche giorno è arrivata la promozione del Chieti, un'emozione incredibile. Sì, ma succede così, è chiaro che domenica abbiamo fatto un primo piccolo passo falso, ma c'erano tante condizioni per poterlo fare, bisogna stare sempre tranquilli, l'abbiamo vinto nelle prime nove partite, abbiamo preso quel vantaggio impensabile da colmare, un po' d'ansia ti viene, il braccino corto, però, ripeto, l'esperienza è questa, quindi noi siamo felici, strameritato, non credo che nessuno possa dire niente, le partite giuste le abbiamo indovinate tutte, le abbiamo vinte con merito e abbiamo saputo costruire un gruppo molto importante, dedico veramente questa vittoria a Piero Di Bartolomeo, l'avevo promessa la Curva Volpi, un gigante buono che non c'è più, e poi a Walter Di Leo e poi i ringraziamenti sono a tutti, la società, il gruppo, lo staff, la squadra, Celestino Natale, veramente è un lavoro... ino si interviste o no, lo smette o no, andiamo, andiamo... Poi queste cose si vedono anche da schermo, dalla televisione ed è così perché veramente si è creato un gruppo dal primo giorno, abbiamo fatto un lavoro anche da un punto di vista mentale e psicologico insieme al nostro mental coach, un percorso voluto da me e da lui e dalla società che ha portato ad avere un gruppo forte perché solo così può vincere. C'era bisogno di gestire tanti giocatori e c'è bisogno quindi di organizzazione e l'abbiamo fatto, abbiamo sopperito l'assenza perché nessuno deve dimenticare che Verna l'abbiamo perso, abbiamo perso Corticchia che stava in un momento molto positivo, abbiamo perso anche altri giocatori, Filosa e invece noi non abbiamo indietreggiato quindi penso veramente non c'è stata storia secondo me in questo campionato. Quindi un percorso che continuerà con mister Lucarelli? Questo bisogna chiedere alla società, le premesse volendo ci sono tutte, però poi i discorsi vanno fatti con calma, naturalmente io mi trovo benissimo, la società pure ha dimostrato di avere massima stima nei miei confronti, quindi poi queste sono cose che ragioneremo dopo perché adesso bisogna solo festeggiare perché riportare i chiedi in D ragazzi tanta roba, manca poco a fare il sogno di tutti i teatini. Mi fermo qui dai. Grazie mille. Al Chieti calcio e tutta Chieti per essere ritornati in Serie D, penso che sia la categoria minima che una grande città come Chieti meriti. Sicuramente sarà un'altra ennesima squadra rivale da battere sul campo. Sarà molto bella per un'altra squadra abruzzese fra noi. A questo al netto ovviamente di tutti i discorsi che riguarderanno da qui in avanti il notaresco, ma poi so che anche Andrea insomma che ne ha parlato tanto in queste settimane delle possibilità insomma del fatto che il notaresco comunque ha fatto bene a crederci e potrà crederci anche nell'appendice playoff. Ma intanto poi ci torniamo. Fatemi salutare Stefano Recarati. Stefano, allora con te concludiamo dallo stadio Angelini di Chieti. Grazie ovviamente in questo pomeriggio molto molto lungo. Grazie a te, grazie a Gaetano Terio che so che ti sta supportando a livello tecnico e ovviamente adesso finita la festa si può riprendere la strada di casa. Sì sì, mi sta facendo, lasciatemi il termine e passatemi da treppiedi umano per mantenere il telefono. Che non so. Grazie Stefano. Grazie a voi, grazie, ci vediamo l'anno prossimo. Eh sì. La prossima stagione. Noi ci vediamo prima, poi per gli amici di Abruzzo e il pallone. Sì sì, a stagione nuova. Grazie Stefano, ciao. Grazie a voi, ciao. Adesso andiamo a vedere i risultati del pomeriggio. Perché non è che le avevamo dimenticati, ma avevamo dato spazio alla promozione del Chieti. Con l'ausilio della grafica, tanti pareggi, una vittoria, quella della Vastese contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Eccoli qua i risultati. Campo, Basso, Fioggi 1-1, Basso, Gerardi, Recanatese 2-2. Queste partite sono iniziate alle 15. Castelfidardo, Agnonese 4-0, Castelnuo-Rieti 1-1. Stesso risultato per Cinzia, Albalonga e Tolentino e per Matese e Pineto. E questo è un risultato, quello del Pineto, fondamentale. Noi avevamo detto domenica, sempre durante l'abruzzo del pallone, il Pineto ha l'obbligo di uscire indenne da piedi Montematese. Ce l'ha fatta, pur essendo andata sotto, ce l'ha fatta a conquistare un punto che potrebbe essere determinante nella corsa playoff. Montegiorgio Aprilia 0-1, Notaresco Giulia Rova, unico scontro tutto abruzzese della giornata 2-2. Vastese Porto Sant'Elpidio 1-0. Vediamo a 90 minuti dal termine qual è la classifica con il Campobasso che ha festeggiato domenica e ve l'abbiamo raccontato. 72 punti, seconda forza del campionato il Notaresco, matematicamente secondo. E poi, mischione, mucchio selvaggio, direbbe Andrea, citando un noto telecronista nazionale, Cinzia Albalonga, Pineto e Matese 53. In questo momento queste sono le qualificate playoff. Notaresco Cinzia Albalonga, Pineto e Matese. La prima delle escluse sarebbe il Castelfilardo 52, 48 per la Vastese e 47 per il Castelnuovo, che avrebbe, ha una ipotesi remotissima, perché deve recuperare due partite, di qualificarsi al playoff. Ma è veramente remota. Poi io, Andrea, provate a spiegarmelo, io devo dire la verità, dopo un po' mi sono perso. E poi magari ci prova lui, che è molto molto più bravo di me. 45 punti per il Montegiorgio, 44 per il Recanatese, Rieti e Aprilia, 40 per Fiugge e Vasto Girardi, 37 per il Tolentino, 31 per il Giuglianova, 14 per l'Atletico Porto Sant'Elpidio e Agnonese, che salutano questo campionato e tornano nel loro campionato di eccellenza, di riferimento, Molisano e Marchigiano. Allora, Andrea, tu hai detto in più di una circostanza che il Notaresco faceva bene a crederci, poi è arrivata domenica la vittoria del Campobasso, possiamo anche rivedere un po' di immagini, ma se dovessi dare un consiglio a Paolo D'Ercole, al Notaresco, da qui alla fine dei playoff che consiglio gli daresti? Beh, per quanto riguarda i playoff di vincerli, però insomma è anche scontato e banale, io ripeto quello che ho detto nelle scorse puntate, cercare di dare continuità a questo progetto tecnico, immagino non sia facile, immagino che non sia semplice mantenere giocatori di punta su tutti Vanegas, però se il Notaresco, se Paolo D'Ercole con anche il presidente Di Giovanni riusciranno, insomma, anche lo stesso allenatore Massimo Epifani riusciranno a dare ulteriore continuità a questo gruppo, quindi a tenere i pezzi più pregiati e fare qualche altro aggiustamento, il Notaresco si può ripresentare a questo campionato con la possibilità di essere competitivo e magari di vincerlo, poi tra l'altro aggiungo, perché dobbiamo anche guardare un po' intorno, temevo l'arrivo dell'Ancona, ma a questo punto l'Ancona, essendoci stata la fusione con il Materica, salta la Serie D e va direttamente in Serie C, quindi il Girone F se dovesse essere confermato con questa strutturazione a livello di piazze riguadagna Chieti, ma non so se Chieti sarà già pronto il prossimo anno a competere, magari ci si può fare più di un pensierino, ripeto, sempre che si riesca a tenere questo gruppo o gran parte di questi giocatori, poi vedremo anche se ci saranno altre squadre che vorranno essere competitive, però il Notaresco può dire la sua, ammesso che, e poi qui abbiamo Paolo D'Ercole, non ci sia un pensierino per un eventuale ripescaggio se dovessero crearsi dei posti, ho detto tutto, ciao Paolo. Giriamo la domanda, io faccio solo da vigile urbano. Quale delle tante belle cose che ha detto il nostro carissimo amico? È troppo competente perché mette in difficoltà. Tutte direttore, uno alla volta rispondi e puoi rispondere. Continuità e ripescaggio, sono queste le due. La continuità penso che debba essere la prima cosa, ma a partire già da quest'anno, già dalla partita di oggi, era una partita che si doveva avere continuità, perché vincere, io dico sempre ragazzi che vincere aiuta a vincere, questo è mettersi in testa la capacità di saper vincere, che aiuta sempre a vincere. Noi dobbiamo finire questo campionato al meglio e dopo dobbiamo andarci a prendere i play-off, perché li meritiamo. La toglie, ho fatto che comunque il campionato è finito, che abbiamo fatto secondi, quindi non è che se dovessimo fallire i play-off debba essere presa come una tragedia. Noi dobbiamo vincerli perché siamo forti, perché ce lo meritiamo e per tutto il percorso che abbiamo fatto fino ad oggi, essendo stata l'unica squadra che fino alla fine ha provato a lottare con il campo basso, che se non ci fossero stati quei due scontri diretti, non bastava vincere uno che stiamo parlando ancora di un campionato estremamente aperto, oltre a delle decisioni pressoché discutibili da parte dei piani alti della federazione. Allora, le altre due questioni, il ripescaggio e poi ne aggiungo una io, ma dopo la risposta sul ripescaggio? Eventuale, chiaramente. Il ripescaggio, questo dipenderà dalla società, penso che sia una cosa estremamente complicata perché se non sbaglio la prima squadra che verrà ripescata in caso di fallimento di altre squadre sia Alfano, che ad oggi è una squadra che indi, una squadra importante. Sono uscite le linee guida per il ripescaggio in Serie C e si darà priorità alle squadre della Serie D, cioè in realtà la priorità è alle squadre Under 23 della Serie A, che però Juventus a parte non mi sembra siano all'ordine del giorno. Dopodiché la priorità verrà data, è stato invertito il criterio questa volta, cioè si darà prima priorità alle squadre di Serie D e dopo alle riammesse, prima alle ripescate e poi alle riammesse. Ecco perché la domanda è ancora più cogente. Sì, però il problema è comunque in Serie D, le squadre che parteciperanno ai play-off saranno di blasone estremamente alto. Non ho visto i risultati di oggi, ma ci dovrebbero essere squadre come Rimini, penso Savoia, Siena, tantissime squadre, Picerno, Casarano. Ci sono tantissime squadre, poi non so come verrà valutato in base alle zone geografiche o quant'altro, ancora non ho letto bene tutto il regolamento. Però so che il Fano, anche se c'è questa cosa qui, è considerata una squadra estremamente florida a livello economico e quindi ha grosse possibilità, però probabilmente mi sbaglio visto che adesso è uscito questo nuovo regolamento. però non penso che sia semplicissimo fare il ripescaggio perché sono soldi a fondo perduto, tanti soldi a fondo perduto, quindi non penso che sia la cosa migliore da fare, però questa è una domanda che dovesse fare più la società. Noi ancora abbiamo pensato a questo, stiamo pensando a finire il campionato al meglio, poi la società eventualmente prenderà le sue decisioni. Ti faccio vedere il servizio del pareggio di oggi, notaresco Giulianova è terminata, due a due, vediamo. Ok, rientriamo che c'è un problema, allora ne approfitto per chiederti se c'è un po' di rammarico, direttore, per quello che poteva essere e non è stato. Adesso a bocce ferme. quello che poteva essere, che ti devo dire Jacopo, io penso che abbiamo fatto un grande campionato, il rammarico c'è sempre, c'è anche l'anno scorso, non vedo rammarico, sono successe delle cose, è un campionato particolare, sono 11 mesi che siamo in campo, abbiamo perso 5 calciatori che hanno avuto infortuni importanti, calciatori importanti per noi, li abbiamo sostituiti al meglio, però comunque sai bene che sostituire i calciatori non è solo una questione tecnica, ma è anche una questione di gruppo ambientale. Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento, puoi continuare. Ah, ok. Quindi ci sono tanti aspetti da valutare, abbiamo perso un giocatore per noi molto importante come Banegas nel flash finale per sette partite, i ragazzi hanno dato tutto, però sapete anche che quando perde un giocatore che in quel momento era in stato di grazia, non è semplice sopperire a quello. Poi ci si è messo anche la decisione della federazione di bloccare i play-out, ancora non riesco a capacitarmi perché non trovo ancora la motivazione, visto che si fanno i play-off e non si fanno i play-out. Con questo però non tolgo nulla alla vittoria del campo basso, ha fatto un ottimo campionato, una grandissima squadra e ha meritato di vincere visto che i due scontri diretti sono stati a loro favore, quindi di conseguenza è giusto che loro abbiano avuto la meglio, quindi un'ora ai vincitori ma anche un'ora ai vinti. Assolutamente sì. Allora, noi stiamo per andare a vedere la partita di questo pomeriggio tra Notaresco e Giulianova, è terminata 2-2. Andrea, facciamo una cosa, dammi direttamente il via te, quando finisce la barra verde. Sì, 10 secondi. 10 secondi, così ci vediamo la partita di questo pomeriggio. Eh, lo so, bisogna a volte ripassarlo, ecco qua, sta per arrivare? Sì, direi che ci siamo. Direi che ce l'abbiamo. Notaresco, Giulianova, terminata due a due. Quattro reti, due pali ed una traversa, il Savini match godibile ed incerto fino all'ultimo, quello tra Notaresco e Real Giulianova, due squadre che hanno già definito i propri obiettivi. Due a due, un pari, il sesto in casa, il decimo in stagione per il rosso-blu di casa, acciuffato in rimonta dopo un ottimo avvio dei giuliesi. Notaresco in emergenza per l'occasione, oltre agli infortunati di lungo corso Bianciardi, Cancelli e Colombatti, Out pure Banegas e all'ultimo istante Montuori. Per squalifica invece non sono a disposizione Mancini, Marchionni e Mister Epifani, sostituito dal vice Falasca. Speranza e Frulla in panca in vista dei play-off e Ghiani ad affiancare Gallo al centro della difesa, Sorrini e Di Stefano sulle corsie esterne e a centrocampo maglia da titolare per Massarotti e Paganin. Leonardo Bitetto recupera De Cerchio e Caso, assenti contro il Matese, davanti la coppia è formata da Paudice e Barlafante. Avvio mortifero da parte dei giallorossi che trovano il doppio vantaggio ancora prima del quarto d'ora. La Visaglia arriva al quarto quando Massetti, uno degli ex, impegna Shiba. Cinque giri di lancette più tardi il vantaggio che arriva a seguito di uno scambio tra Paudice e Barlafante. Assist del primo, tiro a giro sul secondo palo del secondo. Zero a uno. Neanche il tempo di annotare l'azione che al tredicesimo arriva anche il bis giuliese con Paudice che svetta di testa e mette dentro un calibrato cross di Massetti. Notaresco zero, Giulianova due al tredicesimo. Sotto di due gol il notaresco inizia a carburare. Palumbo prova di impensierire al diciottesimo di Mango, senza fortuna. De abbendata non amica dei padroni di casa neanche alla mezz'ora, quando il palo respinge il colpo di testa di Dos Santos dopo un'iniziativa di Palumbo. Momento sliding doors sul finale della prima frazione. Il quarantaduesimo è prorompente l'azione di Paudice che parte dalla propria metà campo, entra in aria e conclude. Intervento reattivo di Shiba che respinge ed evita la capitolazione. Dal possibile zero a tre, neanche un minuto più tardi il notaresco accorcia grazie a Dos Santos servito dalle retrovie. L'attaccante Carioca supera in uscita di Mango e deposita in rete la nona marcatura personale in campionato. Uno a due. Con le immagini di Fabio Fedeli passiamo alla ripresa che si apre con una ghiotta occasione all'ottavo per Palumbo che in area da favorevole posizione viene chiuso dalla difesa giallorossa. Cinque giri di lancette più tardi è pericoloso ancora il Real Giulianova con Barlafante che sguscia via, tiro che coglie il palo esterno e termina sul fondo. Il terzo legno di giornata arriva al sedicesimo quando Palumbo prova a sorprendere di Mango. La traversa salva la difesa ospite e nega il pari ai padroni di casa. Sono il rosso-blu a spingere la ricerca del pari al diciannovesimo a quadro sotto porta non trova lo specchio della porta di testa mentre al ventisesimo è superlativo all'intervento di Di Mango sulla deviazione ravvicinata di Dos Santos. Insiste ancora la compagine del presidente Di Giovanni al quarantatresimo e doppia l'occasione scaturita da una bella progressione di Bana. Buonavoglia ci prova due volte, si salva la difesa del Giulianova che però capitola il quarantaquattresimo quando a quadro al termine di un'azione avvolgente trova il pertugio giusto dal limite, due a due. In pieno recupero ancora emozioni, la saetta di Paudice finisce sul fondo di un niente, gli assalti conclusivi del notaresco non cambiano l'esito del match che finisce con la divisione della posta in paglio. Allora questo è il pareggio per due a due, torno da Paolo D'Ercole per le ultime considerazioni. Direttore, allora comunque andranno le cose nei playoff, pensi che questo può essere un gruppo confermabile? Non sai perché te lo chiedo? Perché poi in realtà noi domenica parlando del campo basso, anche del Matelica dell'anno prima, abbiamo detto sono squadre che ci hanno provato, riprovato, riprovato e poi sono arrivate effettivamente a vincere il campionato. A questo punto, se tanto mi da tanto, il notaresco può percorrere la stessa strada. Quindi ecco perché ti chiedo se questo è un gruppo confermabile per larghi tratti e puntellabile. Io penso di sì, perché se si vuole arrivare a ottenere dei risultati la squadra non può essere smembrata. Poi io dico sempre ai ragazzi quando faccio trattative, che i matrimoni si fanno in due, ci saranno sicuramente molti ragazzi che avranno richieste e non sarà semplicissimo. Io so soltanto che comunque i ragazzi stanno bene, perché comunque è difficile non stare bene. Cerca di non farti mancare mai nulla, anzi non te lo fa mai mancare. Noi dobbiamo cercare di confermare il più possibile, perché è giusto che sia così se si vuole arrivare a un risultato. Poi non so se quello che verrà cambiato porterà a risultati migliori. Tanto il risultato migliore di questo è soltanto vincere, non c'è un risultato migliore di un secondo posto, c'è soltanto il primo posto. Io penso che bisogna continuare a migliorarsi su tutti gli aspetti organizzativi e di squadra. Quando avremo ottenuto la quasi, tra virgolette, perfezione, i risultati arriveranno. L'allenatore tra le conferme? Assolutamente sì. Anche lì dovrà essere soprattutto volontà sua, ma penso che volontà sua ci sia sicuramente quella di rimanere e non penso ci siano problemi. Posso chiederti un giudizio flash, veramente una pagella. Che voto daresti alle abruzzesi in questo campionato? Guarda, io penso che siano dei voti suddivisibili dal primo al secondo semestre. Noi penso che siamo stati la squadra più continua, infatti i risultati, quindi il voto nostro lo darete voi, non lo posso dare io a noi. Penso che il Pineto abbia fatto una grandissima seconda parte dopo il cambio in panchina e lo ha dimostrato, penso che ha fatto dei risultati importanti. L'Avastese si è ripresa tanto, ha fatto bene, ha avuto dei periodi di difficoltà, però ripeto, a sei partite al termine, sette partite al termine, nel momento in cui è stata presa quella decisione, il campionato ha cambiato un po' l'inerzia di quello che erano i risultati effettivi di questo campionato. Questo è il mio parere. Probabilmente i risultati sarebbero stati gli stessi, probabilmente no. Sono contento che tutte quante sono salve, quindi sicuramente l'anno prossimo ci saranno tanti derby in più da fare. E' un altro lavoro più per noi però. Questo tu non l'hai detto, però lo dico io. Ma io lo dico perché io sono contento per voi perché voi vi divertite. Avete più da criticare, avete più da gioire, cioè qualcosa dovete fare dopo. Ho visto che tanto siamo in tema stasera a Gugliarri. Innanzitutto ti faccio salutare Andrea Masciangio, direttore generale della Vastese che è in collegamento. Ciao direttore. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Ciao Valò. Ciao Andrea. Dicevamo che l'anno prossimo insomma diventate sei e noi abbiamo il nostro bel da fare. Va bene. Poi tanto a noi non ci pensa mai nessuno, però Andrea è contento. Vero Andrea sei contento? Diventano sei? Andrea io? Sono stra contento. Due squadre in Serie C, sei in Serie D, quindi insomma ci sarà tanto da lavorare, ma insomma sarà anche un piacere da raccontare a proposito di quelle blasonate di cui parlava Paolo D'Ercole. Sarebbero meglio stata una in B e una in C. Sì, quello sì. Sicuramente sì, ma purtroppo per quella Serie B ormai era andata già da un pezzo. Latina 1, Nocerina 0 ai supplementari in questo momento per stare a quelle blasonate del cui faceva riferimento Paolo D'Ercole in precedenza. Sì, peraltro oggi le qualificazioni nei vari playoff di Serie D dell'Arzignano, della Fidelissandria, della Clodiense, del Picerno, del Savoia e adesso sono i supplementari. Fanfulla Crema 2 a 1, Latina Nocerina come ha detto Andrea 2 a 2 e Oggiono Casatese 2 a 2. Non mi chiedete dov'è il Nibion Oggiono perché lo assolutamente ignoro. Però fammi dire una curiosità, il Gironei che vive il confronto testa a testa tra le due messinesi slitta con le ultime due giornate. Le partite di queste squadre, delle due di Messina, slittano e si stanno giocando il campionato. Si arriverà a fine giugno con il thrilling. Penso come sono contenti i giornalisti di Messina. Va bene, grazie a Paolo D'Ercole, buon lavoro. Grazie a voi. Soprattutto per i playoff, noi ovviamente seguiremo il percorso del notaresco sperando che arrivi fino all'ultimo atto. Grazie a Paolo D'Ercole per essere stato con noi. Passiamo in casa Vastese, diamo di nuovo la buona serata ad Andrea Masciangelo. Però prima ti faccio vedere l'1 a 0 di oggi. Vastese, Porto Sant'Elpidio, 1 a 0, il servizio è di Paolo Rezzini. La Vastese saluta i suoi tifosi con la vittoria di misura sul Porto Sant'Elpidio. Nell'ultima casalinga della stagione i bianco-rossi hanno superato per 1 a 0 la formazione marchigiana, già da qualche settimana matematicamente retrocessa, grazie ad una rete di Martiniello in apertura di ripresa. Gara quella dell'Aragona senza assili di classifica e dunque godibile. Primo squillo al settimo minuto con la punizione di Obodo e il colpo di testa di Martiniello che a due passi da Cavalieri impatta di testa centralmente. Al ventesimo ancora bianco-rossi pericolosi con un'azione fotocopia della precedente angolo di Obodo e colpo di testa dell'attaccante aragonese che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Gara giocata a ritmi bassi e con il prevedibile pallino del gioco in mano ai ragazzi di D'Adderio. I marchigiani però si difendono con ordine, non disdegnando qualche sortita in avanti. Al ventiduesimo minuto Martiniello per l'Avastese ci prova per la terza volta, girando in area un cross di Diarrà e trovando questa volta una deviazione in angolo. Attacca l'Avastese che al trentanovesimo arriva ad un passo dal 1 a 0 con il portiere marchigiano che con un grande intervento nega il gol a Diallò. Al quarantaduesimo ci prova Diarrà, ma la mira non è delle migliori. Il primo tempo finisce così sullo 0 a 0 ma in avvio di ripresa al quinto Martiniello. Al quarto tentativo non sbaglia mettendo la sfera di testa alle spalle di Cavalieri su angolo di Obodo. Vantaggio meritato per la formazione del presidente Bolami che non paga del 1 a 0. Continua a spingere. Al decimo proteste Abruzzesi per un proseguito tocco con la mano in area marchigiana di Aliffi su cross di Diarrà, ma Striamo di Salerno lascia proseguire. Al ventunesimo arriva il primo vero tiro in porta ospite con Perri che su punizione chiama alla parata di Rienzo. Al ventiquattresimo lo stesso Perri per gli ospiti approfitta di un rimpallo ma dal limite sfiora l'incrocio. Al trentaseiesimo si rivede così la squadra di casa con il neoentrato Lenoci che dall'interno dell'area di rigore allarga troppo il compasso mettendo il pallone a lato. Il finale di partita non regala poi altri acuti con i biancorossi che escono dall'Aragona fra gli applausi dei 200 presenti. Domenica ultima della stagione a Recanati e poi tutti al mare con la società però chiamata a programmare già tra qualche settimana la nuova stagione. E dunque vittoria 1-0 contro uno dei due fanalini di coda l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Direttore, sentito Paolo Renzi in tetto, poi ultima, poi tutti al mare. Io non so se te ci andrai, non lo so. Purtroppo no. Ah, è perché devi programmare, come ha detto Paolo, la stagione. No, perché il 19 luglio ho l'esame del corso a Coverciano, quindi finita domenica dovrò studiare qualcosa perché sennò non riuscirò a prendere questo patentino. E allora in bocca al lupo ovviamente per l'esame di Coverciano, poi però bisognerà pianificare la stagione che verrà. Ora io ti chiedo, la stagione che è stata invece? Che bilancio? La stagione è stata travagliata, lunga, però il rammarico c'è perché penso che se nella seconda parte del campionato a marzo non fossimo incappati nel Covid, quindi venivamo già da dieci risultati utili consecutivi, la squadra era sempre crescendo, penso che sicuramente potevamo fare qualcosa in più, arrivare nella griglia dei pre-off. Questo si vedeva un lavoro che continuava e ci vedeva dei miglioramenti, purtroppo lì ci si è interrotto e quello che sta succedendo adesso secondo me è perché abbiamo ripreso un certo tipo di lavoro, un certo cammino, i giocatori sono usciti dalla situazione fisica precaria dovuta, ripeto, a questo Covid e quindi c'è un po' di rammarico. Adesso ultimiamo domenica e poi magari ci riposiamo qualche giorno e vediamo il futuro. Se mi permetti Jacopo, visto che prima hai parlato di un abruzzese che si aggiunge, fare i complimenti alla città di Chieti, a tutti i tifosi del Chieti, alla società in particolare, al mio amico Antonio Mergiotti perché se lo merita e quindi gli faccio i complimenti, con un abbraccio valoroso perché so quando ha sofferto, so quando ci teneva, un abbraccio a tutti di cuore. Assolutamente, assolutamente. Peraltro penso che ti faccia particolarmente piacere una città dove hai lavorato ultimamente che ritrova la serie di che aveva perduto un anno fa. Visto che tra poco ti dobbiamo lasciare per dar spazio anche agli altri servizi, però continua da qualche giorno questo batti e ribatti tra oggi anche Paolo, no datemi Andrea Costantino, questo batti e ribatti tra oggi Paolo D'Adderio, Paolo Renzetti con D'Adderio, rimani? E D'Adderio che è un dribblatore da competizione davvero perché dice no io sono abituato a sedermi a chi vi fravedrà l'altra volta, insomma. Mi dici in dieci secondi poi chiediamo a Andrea Massaggio con lui che sensazioni ha? In realtà ce lo dovrebbe dire ma non ce lo dirà mai. Tu che sensazione hai alla fine? Alla fine si siederanno a tavolino, troveranno... Se dovessi stare alle sensazioni a quello che continua a dire D'Adderio direi che è difficile la sua permanenza. Anche l'altra volta a Tolentino, chi vivrà vedrà, se vivremo vedremo e capiremo. Vabbè, però anche le parole pronunciate dopo la partita contro la Cinzia giocata a Pineto insomma mi facevano capire che è difficile la sua permanenza, difficile ma non impossibile. Se poi sedendosi a tavolino col Presidente vedrà che c'è margine per poter lavorare d'amore e d'accordo in vista della prossima stagione. Però insomma le prime sensazioni, i primi exit poll non mi sembrano rassicuranti sotto questo punto di vista. Però gli exit poll poi possono essere sombretiti dalle proiezioni, quindi le proiezioni bisogna entrare nel merito della questione. Le proiezioni, che proiezioni ci sono? Li abbasto? Intanto stasera stiamo dal ristorante dal Presidente e quindi saremo tutti a cena con la squadra e il mister sarà al nostro piano. Ah ok. E magari sai, da una birra in un'altra vediamo cosa succede. Però per adesso pensiamo solo con la testa a fare il massimo fino a domenica perché ce lo siamo posti, quindi dopo domenica vedremo un po' il futuro di tutti, anche sia quello personale, sia quello che vuole fare la società, quello del mister. La cosa è che si è creato sicuramente a basso, come ho detto prima, abbiamo fatto un grande lavoro. Non parlo solo tecnico, anche a livello societario. Adesso manca, secondo me, sedersi intorno a un tavolino e magari alzare veramente, come dice lo stesso Presidente, la sticella e provare a fare qualcosa di importante il prossimo anno. Però questo prima lo deve decidere la società e poi mano a mano i ruoli e arrivare ad allenatore. Sicuramente il mister si è trovato bene, ha fatto un grande lavoro, un professionista. Per me non c'entra niente con la categoria, sicuramente la società farà di tutto per non farselo scattare, però bisogna essere, come dice lui, bisogna essere in due, ma soprattutto ci devono essere le idee chiare e degli obiettivi perché ognuno di noi è ambizioso, vuole lavorare in una certa maniera e quindi bisogna fare le cose per bene. Quindi anche il direttore Andrea Masciangelo non sa se resta, oltre a D'Adderio c'è anche quest'altro dubbio? Ma bisogna, vedi Andrea, diciamo che col corso che effettua il 19 luglio c'è il raggiungimento di un traguardo. In questi anni ho fatto sia il direttore generale, sia anche altri ruoli nella Teramo Calcio e penso di essere pronta a fare qualcosa di diverso, quindi ne parlerò con la società e voglio fare di questo il mio lavoro, quindi è una cosa che poi parleremo con loro e vedremo. Passo per me è la mia seconda casa, la mia città e il mio cuore, però è chiaro che bisogna essere in due, ma soprattutto sono un ambizioso, voglio arrivare in alto e quindi vedremo dopo domenica con la società, col presidente da farsi. Che tra parentesi vi saluta e vi ascolta che è qui vicino. Ah ok, ok, allora un saluto, un saluto, va bene, un saluto a tutti, buona cena. Grazie, ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Iapolo. Buona serata, una buona serata. Oh, noi stiamo per andare in pubblicità, però vi do una notizia clamorosa. Andrea, ti do una notizia clamorosa. Gattuso. Gattuso, sta per andare via dalla Fiorentina. Sì. Cioè appena arrivato, tensioni in posizione di Mendes sul mercato. Esatto. Tensione Gattuso-Fiorentina potrebbe andare via, vabbè, pazzesco, pubblicità torniamo tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte per questa sera che chiudiamo con i due servizi che, delle abruzzesi che ci restano da vedere, sono due 1 a 1. Quello del Pineto, importantissimo sul campo del Matese, è quello del Castelnuovo, 1 a 1 contro il Rieti. Vediamo. Nella penultima giornata il Pineto pareggia per 1 a 1 in rimonta contro il Matese sul campo neutro di Venafro. In vantaggio nella prima frazione i padroni di casa con Galesio, Minossi dal dischetto, pareggia per gli Adriatici. Procedere finale di una stagione infuocata domenica contro il Campobasso per i Biancazzurri allo stadio. Mariani Pavone con tre squadre appaiate a 53 lunghezze. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Parte forte la squadra di Urbano ad Usa sul fil di lana. Scarica il centro e Galesio da due passi non ha problemi a insaccare la sfera. Sempre l'undici Campano prova a fare la partita. Barone dal limite sfiora la traversa. Al ventesimo i Biancazzurri non ci stanno. Traversone dalla destra, tocco di mano di Cassese e calcio di rigore. Minossi dal dischetto rimane glaciale, spiazza Kuzmanovic e trova il quattordicesimo centro personale. La squadra Adriatica prova subito il sorpasso. Minincleri pennella, Mesisca da ottima posizione, spedisce la sfera sul fondo. I Lupi provano a rimettere il muso davanti. Azione personale di Adusa, Mercorelli devia in corner. Ancora i Verdeoro sfiorano il 2-1. L'Angellotti conclude, Mercorelli forse con la punta delle dita devia quel che basta. E il pallone si stampa sulla traversa. Botta e risposta a Bruzzese, Minincleri in coccia. Sfera che bacia il montante alto e si spegne sul fondo. Nella ripresa il Pineto vuole il vantaggio. Minincleri tacco per Bugaro e assist per Galeano. Il bisturi del centrocampista Uruguagio non trova Minnozzi per millimetri. L'undici ospite vuole l'intera posta. Cross per Mastrippolito. Kuzmanovic smanaccia e salva i suoi. La partita è vibrante. Sul capovolgimento di fronte, Galesio sale in cielo. Palla fuori di poco. Il match si appisola e non succede più nulla. Le due squadre si dividono dunque la posta in pallio. Preannunciando un finale di stagione caldissimo. Con le due compagini insieme al Cinzia e al Balonga. Appaiate a 53 lunghezze. Terzo ultimo atto per il Castelnuovo che ospita al Comunale Il Rieti e che venerdì sarà atteso a Re Canati nel recupero contro i Leopardiani per poi chiudere la stagione domenica contro il Giulianova. Senza guido di Fabio Impanchine e Capitante Renzi o squalificati il Vice Ferretti schiera Morganti e Endoi al centro della difesa. In attacco rientra Fagioli nel tridente con Manari e Di Ruocco. Assenze pesanti anche in Casarieti Raffaele Battisti deve rinunciare al difensore zona fermato dal giudice sportivo per ben quattro giornate a cui si aggiunge la squalifica di Marchi nel 3-5-2 e Mattei a dettare i tempi in avanti la coppia Vali d'Alessandris. Gara molto equilibrata in avvio con le due squadre che si annullano a vicenda. Bisogna attendere il 26esimo per vedere la prima vera occasione dell'incontro quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo d'Alessandris a calcia a botta sicura da distanza ravvicinata costringendo Olivieri ad un vero e proprio miracolo. Salva i suoi l'estremo locale che tiene la partita sullo 0-0. Ancora Vieti pericoloso al 32esimo con il colpo di testa ad incrociare Di Vari che esce fuori di poco. Break dei locali al 35esimo con la conclusione da fuori di Fagioli che termina fuori bersaglio. Ma un minuto più tardi è ancora una volta Olivieri ad essere decisivo per i suoi disinnescando la conclusione ravvicinata di un mobile Vari. La prima frazione termina così senza reti. In apertura di ripresa un cambio per parte. Il Vieti sostituisce Nobile con Esposito mentre il Castelnuovo inserisce Lorenzo Emili per Basilico tornando al classico 4-2-3-1. Ma la prima conclusione nello specchio della porta è per i Laziali che al settimo vanno due volte alla conclusione prima con Esposito poi con Vari ma in entrambi i casi si trappone con efficacia ancora una volta un Super Olivieri che dice no anche un minuto più tardi a Mattei guadagnandosi la palma di migliore in campo per i locali. Locali che al 14esimo si fanno vedere con una punizione dal limite di Loviso che termina di poco alta sulla traversa. Il Castelnuovo alza il baricentro e un minuto più tardi ancora Loviso prova direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo con l'estremo Laziale che si salva con l'aiuto della traversa e sugli sviluppi del corner successivo il Castelnuovo va vicinissimo al vantaggio Fagioli rimette in mezzo per l'acquotente Morganti che incredibilmente spreca da due passi. La pressione dei locali si concretizza al minuto 20 con una grande azione personale di De Gidio che si incunea in area dalla destra supera due avversari, si accentra e deposita in fondo al sacco la rete dell'1-0 e l'undicesimo centro stagionale nel secondo tempo il Castelnuovo suona tutta un'altra musica e al 28esimo potrebbe anche raddoppiare ma Fagioli di testa è impreciso e spreca da ottima posizione alla mezz'ora problemi muscolari per Lorenzo Emili costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco al suo posto entra Gentile al 34esimo si fa rivedere i rieti in avanti con un diagonale di D'Alessandris che chiama ancora una volta la respinta coi piedi Olivieri prova a complicarsi la vita il Castelnuovo al 40esimo ingenuo Fagioli va al contrasto con Montesi nel tentativo di recuperare la sfera e rimedia il secondo cartellino giallo di giornata lasciando i suoi in 10 nel finale e al 41esimo il rieti tenta il tutto per tutto con il tentativo in rovesciata di Tunkara ma Olivieri dice ancora una volta no ma in pieno recupero al 49esimo quando il Castelnuovo pregustava già la vittoria i rieti pareggia D'Alessandris si libera così di degidio il direttore di gara non ravvisa il fallo tra le proteste locali la sfera arriva a Esposito che in extremis fa 1 a 1 termina tra le proteste neroverdi al comunale con un pareggio che ha il sapore della beffa per il Castelnuovo che così vede ridursi al lumicino le ultime speranze playoff ho due pareggi dal sapore sostanzialmente diverso intanto Andrea stanno arrivando delle notizie che riguardano il calendario perché il Castelnuovo deve recuperare venerdì con l'area canatese e poi però c'è la possibilità che possa essere anticipata domenica la situazione è questa il comitato interregionale aveva spostato a sabato l'ultima giornata di campionato però c'era anche Re Canatese Castelnuovo di venerdì e quindi per dare un giorno in più di riposo aveva sostanzialmente optato per far giocare lunedì Giulianova Castelnuovo e Re Canatese Mastese però ora abbiamo appurato che Giulianova Castelnuovo si giocherà domenica dunque Re Canatese Castelnuovo venerdì Giulianova Castelnuovo domenica mentre la partita tra Pineto e Campobasso che dunque era stata calendarizzata per sabato essendo l'ultima giornata si giocherà di domenica però sto appurando anche questa cosa è uscito anche il comunicato del Pineto Calcio insomma si va verso la partita di domenica se mi date 5 secondi vi do la conferma ufficiale Assolutamente sì intanto noi vediamo la classifica a 90 minuti dal termine perché ora come vi ho detto in questo momento con il Campobasso che ha vinto il campionato il notaresco che è certamente secondo e quindi va alla seconda fase alla postseason adesso c'è da vedere tra Cinzia Albalonga, Pineto Matese e Castelfidardo in realtà il Pineto giocherebbe contro contro il Campobasso che è già promosso peraltro Andrea ci fa sapere Roberta sul chat di gruppo sulla chat che utilizziamo che Pineto invece no c'è stato un errore dovrebbe giocare sabato ok 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 c'è stato un piccolo refuso ecco perché c'era il titolo che diceva domenica poi all'interno il corpo del comunicato diceva sabato però insomma quindi falso allarme Pineto Campobasso di sabato tra l'altro se vuoi spieghiamo rapidamente per il Castelnuovo sì mi danno conferma ufficiale il Campobasso si gioca di sabato c'era quel piccolo refuso che aveva creato un po' di confusione vediamo la classifica di sabato allora Castelnuovo ha speranze ridotte all'iperlumicino per andare ai playoff dovrebbero non perdere Cinzia e Pineto dunque fare 54-56 punti dovrebbe perdere il Castelfidardo e dovrebbe perdere il Matese Castelnuovo dovrebbe vincere entrambe le partite poi siccome il Matese al momento ha una differenza reti di più 7 e Castelnuovo di più 2 ed essendo lo scontro diretto pari tra Castelnuovo e Matese perché il Castelnuovo ha vinto di un gol all'andata il Matese ha vinto di un gol al ritorno comanderebbe la differenza reti in generale ho detto Matese ha più 7 se dovesse perdere scenderebbe almeno a meno 6 e il Castelnuovo che ora è a più 2 dovrebbe vincere le due partite con un margine tale da avere una differenza reti di più 7 quindi dovrebbe avere una differenza reti nelle due partite di 5 quindi vincere 3-0 e 2-0 lo so che può sembrare contorto ma è anche vero che è un caso molto molto limite perché servono tantissime situazioni diciamo che quindi Castelnuovo è tenuto in vita da un piccolissimo lume ma insomma è quasi impossibile sostanzialmente che Castelnuovo possa rientrare in zona playoff ed è un peccato perché questa squadra ha fatto benissimo nella prima parte del campionato la gara spartiacque è stata la rimonta subita da parte del Castelfidardo da 2-0 a 2-3 poi è arrivato anche il Covid che ha guastato definitivamente una stagione che invece era stata incredibilmente positiva per due terzi del suo svolgimento per la matricola Castelnuovo eh sì assolutamente sì noi siamo arrivati veramente in conclusione per questa stagione io ringrazio Andrea in redazione compagno di viaggio preziosissimo grazie Andrea grazie grazie a voi beh arriva alla fine di un percorso molto lungo in una stagione molto complessa e anche tutti questi rinvii giornate spostate anticipi posticipi partite di venerdì spiegano quanto è stata difficile questa stagione soprattutto nei campionati direttantistici abbiamo visto anche un'eccellenza annullata la prima parte si è giocato in questi in questi due mesi quando riprenderemo l'anno prossimo Jacopo beh ci sarà una una grande serie C avremmo voluto il pescato in serie B ma c'è una retrocessione dunque una grande serie C con due squadre e una serie D che si arricchisce del Chieti con le cinque partecipanti già di questo campionato quindi insomma saremo pronti a raccontare alla grande grazie ad Abruzzo del pallone anche il calcio della nostra regione nel prossimo campionato assolutamente sì a me corre l'obbligo di ringraziare oltre te ovviamente tutta la squadra davvero tutta la squadra di TV6 tecnici e giornalisti Paolo Rizzetti Stefano De Canati Roberta Di Sante Loris Bennato Gaeta Noterio Claudio Di Giacomo Ania Cantagalli insomma tutti quelli che nel corso di queste settimane avete visto e molti che non avete visto così come Maurizio Daqui e Karim Finotti Maurizio Daqui per la regia Karim Finotti per il coordinamento alla regia molti volti li sentite e basta non li vedete proprio di persona ma sono ancora più importanti di noi che poi insomma andiamo in onda perché ci permettono vi permettono di vedere le immagini ogni domenica sono le 20 20 e 30 in punto in questo momento l'Abruzzo del pallone termina qui per la stagione 2020-2021 certamente una stagione che ricorderemo e siamo pronti ovviamente quando ripartiranno i campionati ad essere di nuovo in vostra compagnia è tutto buona sera a Grazie a tutti.